Nella 94esima ricorrenza della conclusione della Prima Guerra Mondiale e del compimento dell'Unità Nazionale, la città di Pordenone ha commemorato i caduti di tutte le guerre e coloro che hanno concorso al processo unitario del Paese. Questa mattina, presso il cimitero urbano, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei caduti della patria. Alla presenza delle massime autorità, civili e militari, dopo la celebrazione religiosa svoltasi alla chiesa di San Francesco di Via Capuccini, il corteo dei presenti si è recato al cimitero cittadino per la deposizione della corona d'alloro. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Oggi è il 2 novembre, ricordiamo i nostri morti e quindi è doveroso ricordare chi la vita l'ha data per l'Italia, per la patria. Sembra così attuale questo ricordo, visto l'Alpino di 24 anni che è morto pochi giorni fa in Afghanistan e i 52 morti che ci sono stati solo in Afghanistan durante questa guerra. È la prima di una serie di ricordi e manifestazioni che poi vedrà il 4 novembre il suo culmine. Ancora vogliamo essere vicini come città a tutti quelli che hanno avuto dei loro cari morti per l'Italia, per le guerre, che hanno dato la loro vita per il nostro paese e ancora di più il 4 novembre, quando saremo vicini alle nostre forze armate per festeggiarle e ricordare quanto ancora la città e soprattutto la riete siano un qualcosa che vive insieme e che fa parte della nostra identità.